Ciao a tutti ragazzi, siamo qui in questo nuovissimo video Ben ritornati nelle recensioni delle mod Oggi ragazzi siamo in questa nuova mod molto particolare Che è la Mob Guns Quindi le armi dei mob praticamente Terradotto in italiano Ragazzi vi spiego in cosa consiste questa mob Mob? Mod? Comunque ci sono dei bazooka che praticamente sparano i mob Che sono quelli ostili, quelli pacifici come ad esempio Maiale eccetera E poi ci sono anche i youtuber Ma questo è un pacchetto speciale che vi spiego dopo Comunque direi subito di passare al dunque Qui vedete che c'è sta gente che verrà uccisa, verrà uccisa brutalmente Questo ragazzi è il crafting di default dei bazooka Quindi verranno utilizzati questi crafting E al centro verrà messo ogni oggetto che adesso vi mostrerò Quindi ci vogliono 4 pezzi di iron, 3 diamond e uno smeraldo Disposto in questo modo Voi simulate che sia una crafting table Allora noi vediamo qui Questa è la chest dei mob C'è no ostili, perdonatemi, pacifici Quindi c'è la pig gun, la mucca, il pollo, oppure la gallina Vabbè, la vegora, il gatto, lo squid, lo pupazeneve, la mushroom, la villager C'è anche Steve C'è anche Steve E poi c'è Wolf, c'è il lupo Perché metto a ridere che c'è Steve? Perché i ragazzi è strano che ci sia Steve Però dettagli Comunque come si fanno a craftare? Basta prendere appunto questo schema qui Disporre questi elementi in questo modo E al centro mette mettere ogni elemento che corrisponde appunto ad ogni impazzuca Dove potrete trovare ogni crafting a parte in questo video in cui vi mostro? Nella widget appunto della mod Che si chiama ricordo Mob guns Quindi molto easy Poi qui ragazzi ci sono anche i mob ostili Che sono appunto lo zombie, il creeper, lo slime, il spider, il ragnar Non so perché ogni tanto italiano e inglese mischio però dettagli L'enderman, il blades, il silverfish, il pig zombie Il ghast, lo skeleton e il witter skeleton Quindi c'è anche qui un'altra cesta molto particolare Voi direte che cesta è Luke? Che cesta è questa? Col tempo della Redstone Non so perché ho messo questo Ho messo giusto per La cesta degli youtuber Ragazzi sono tutti youtuber internazionali Quindi non ne conosco perché io non seguo youtube internazionale Se potete così Però ve li dico comunque Sono Capitana Speakerlet Bill Warlow Aurelian Ante Venom IS Cupquake Ragazzi se io sbaglio qualche pronuncia è perché non so sti nomi Popular Mimos Dntdm Questo mi pare che è The Diamond Tipo The Diamond Minecraft Questo forse l'ho già sentito Però dettagli Poi c'è Tynxia Dalla cia qua Sisundi Skydos Minecraft This is the Diamond Gun Minecraft Universe Nuacraft Jam Dartron E Tynxia Quando è Tynxia ci sono? Io ho messo due Tynxia Non si fa Non si fa Buttiamolo Ok beh Comunque Questo è ragazzi Ci sono un sacco di youtube E sono abbastanza tanti Comunque ragazzi Vi spiego cosa succede Cosa hanno di diverso Ogni pazooka Ogni cosa Vi spiego prima cosa Una cosa importantissima Che non vi dovete dimenticare Le munizioni sono appunto I pesci In questo caso il gatto oppure il grano Nel caso delle pecore Quindi si utilizzano i materiali con i quali si craftano Poi invece qui vi spiego Una piccola cosa Per l'uovo del drago Ovviamente ragazzi su un minecraft Almeno che non giocate in creative Si può ottenere solo un uovo di drago Infatti questo bazooka Verrà ricaricato col diamanto Sì e bene sì Adesso ragazzi andremo a provare tutti Ma se dico tutti perché dico tutti Tutti bazooka E vi farò vedere la differenza di ognuno Praticamente ragazzi per i mob questi qui Che non sono quelli ostili Non c'è differenza A parte tu mocha e centri Non c'è differenza in che senso Cambiano soltanto le particelle A volte dipende anche da mob in mob Però il danno è lo stesso Per esempio vedete lo squid Che è diciamo Stavo dicendo un pokemon d'acqua Ma i pokemon ne vado nel mondo Un mob d'acqua Fa lo schizzo d'acqua Adesso non pensate male Invece lo snow coast qua Come è bello Però non si riesce a vedere perché muore Comunque il pupazzo di neve Fa appunto l'effetto della neve Che pum scoppia Poi c'è villager che fa l'effetto Lo smeraldo E la mushroom che fa l'effetto normale Normalissimo Quindi cominciamo a prendere questi qua Questo qua Vediamo invece cosa fa il wolf e lo steve Wolf fuoco Cioè fa l'effetto di fuoco Mentre steve Semplicemente Ma che è pur baggata la skin Comunque Semplicemente vado ad attaccare i villager Senza fare chissà che effetto particolare Ok andiamo a riposare tutto Come si deve Eccola qua Wolf E steve qua Poi andiamo a prendere i mob ostili Yes Mob ostili Me ne so preso un po' la cazzo Motecane Però dettagli Ok allora direi di iniziare Dallo zombie Un po' in ordine diciamo Quindi zombie Eh Vedete lo zombie ragazze Ad esempio Fa solo più danno Questo si Però non cambia nulla Perché non fa nessun effetto particolare Anche se noi lo lanciamo lontanissimo Poi direi di passare Anzi creeper ve lo lascio per ultimo Tanto qualcuno già immagina Perché c'è qualcuno intelligente Comunque Facciamo lo slime Che semplicemente Fa l'effetto dello slime Effetto ragazzi Io per effetto Intendo l'effetto particellare Quindi le particelle dello slime Vedete Poi c'è lo spider Quindi il ragno Che fa l'effetto della redstone E dico che è molto figo L'enderman Che è una bestia di un proiettile Fa l'effetto suo Quello là di quando si teletrasporta E mi sembra ovvio Poi blitz Fa l'effetto del fuoco E davvero blitz E davvero figo Perché sembra un proiettile Dettagli Perché guardate che figata Poi c'è pigman zombie Che fa l'effetto fuoco Anche lui Perché comunque Del nether Ed è giusto così Questa gust Sinceramente non lo so Perché ragazzi Io dalla prima volta Che ho provato la mod Che non era recentemente Un sacco Tipo due anni fa Quando è uscita Quando ho provato la mod Non c'erano tutte queste implementazioni Quindi oggi Vi porto questa recensione Nuova anche per me Quindi il gust Il gust Semplicemente fa il fuoco Perché appunto È del nether Il silverfish Fa l'effetto Quello là del silverfish Sapete Quando spawna Che fa tipo queste stelline ninja Un altro po' Sembrano E tipo fumo E poi ragazzi Il creeper Che proviamo dopo Eh no no Vi piacerebbe E vi piacerebbe Allora poi Il wither skeleton Sembra l'effetto Diciamo stile wither Cioè scusate Stile Mamma mia Non mi viene il nome Silverfish E invece questo Fa l'effetto Tipo dell'enchanting Ragazzi se notate Adesso metto In modo che si nota Eh Senza fare scambi Vedete Fa l'effetto L'effetto Quello è fietto Sì l'enchanting Come era l'enchanting Nelle vecchie versioni Creeper sapete Perché non lo provo Perché raga E il creeper Ci dobbiamo allontanare un po' Guardate Il creeper ragazzi È il migliore E non venite a dire di no Il creeper ragazzi È un vero e proprio bazooka Perché distrugge Dove lì si spara Guarda Cioè tu spari 40 creeper E esplode 40 km di zona Proprio Guardate che figata Cioè io stare qui ore A fare esplodere il creeper Ma proprio davvero Ore 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 secoli Sì Ma ragazzi Se non piovesse Ok Dopo aver tolto la pioggia Aspettiamo che se ne va Ciao pioggia Vediamo che il creeper ragazzi È davvero 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 Una figata Perché Dispecchia proprio il vero e proprio bazooka E poi È il bazooka più forte del gioco Ma mi sembra Ovvio Guardate che figata Ok Dopo aver cazzeggiato 10 anni Su col bazooka del creeper Direi di andare a provare Quelli degli youtuber Che Se non mi sbaglio Adesso Perché ragazzi C'era stato un aggiornamento C'è stato un aggiornamento Della mondo Quindi non so cosa è cambiato Per bene Comunque Ogni effetto Del youtuber Una volta C'aveva effetti appunto particolari Perdonatemi se sbaglio Con le parole Che mi mencippico E aveva degli effetti particolari Adesso Non so se è la stessa cosa Quindi direi Di andarci con Aurelian Gun Ecco Fa l'effetto del cuore Molto figo E one shot No One shot No Poi andiamo con la Yeah I has Cupquake Che fa anche Essa L'effetto del cuore Poi andiamo con Tinksicia Che fa l'effetto del fuoco Quindi Yes Effetto del fuoco Poi andiamo con Sissundi Stanno morendo tutti Stanno morendo tutti Effetto della redstone Ragazzi Vi faccio rispondare un po' di Villager E ci risentiamo Ok ragazzi Dopo aver ripristinato Qualche villager Andiamo con la prossima Arma Che è quella di Dem TDM Quindi Diamond Minecraft Se non mi sbaglio Non mi vorrei sbagliare Comunque andiamo a sparare Fa l'effetto del diamond Ma è troppo figo Ragazzi Ci sono davvero fatto Aspetta Ci do quello che è scomparso Ok Quindi ragazzi Davvero Sono belle Perché come mi ricordavo io Hanno tutte quante le proprie particelle Andiamo con quella la di Popular Mimos Quella la che si carica appunto Con l'Enter Dragon Con l'uovo di Enter Dragon Quindi andiamo ad attaccare E fare effetto del fuoco Anzi 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 Cosa importante Apro questa parentesi E la chiudo subito Ragazzi Per givearvi in Allora in caso Vi volete questa arma Che si può fare soltanto Con l'Enter Dragon Cioè con l'uovo di Enter Dragon Vi spiego il comando Che dovete fare in creative Quindi give Il vostro nome In questo caso Luke17YT Che è appunto il nick di Minecraft E mettiamo Dragon Dragon Trattino basso Dragon Egg E vi troppa appunto L'uovo del drago Semplice esempio Andiamo con la prossima arma Che è di Ante Venom Che appunto Vediamo che effetto fa Mamma mia L'effetto del fuoco Questo è un effetto abbastanza classico Come altri mob Poi andiamo con quella di Bill Varlow Vediamo un po' che effetto fa Eee Fa l'effetto dell'acqua Fa l'effetto E ragazzi purtroppo Non conosco questi youtuber Quindi può darsi Anche determinati effetti Dipendono anche Dalle loro caratteristiche In che senso Poi magari uno È fissato con la red Sono quindi Fa l'effetto della red Sono roba simile Poi non li conosco Capitan Chiara questo Capitan Sparklets Eee Sempre effetto del fuoco Va bene Effetto classico Che abbiamo già visto Questi si possono anche Tranquillamente buttare E Andiamo a provare Senza morire magari Gli ultimi Bazooka Che è quello di Skydose Minecraft Vediamo un po' Sempre fuoco Quindi saltiamo ragazzi Quelli che non sono particolari Saltiamo Adesso viene SC Moons Che fa sempre L'effetto del fuoco Minecraft Universe Che fa l'effetto del fuoco Nuacraft Che fa l'effetto del fuoco Gen Gun E questa siccome È una donna Fa l'effetto del cuore Ed è molto figo E infine Dartro Gun Quindi ragazzi Potete notare Gli ultimi che sono stati aggiunti Perché aveva giocato alla mod Già sapeva Gli ultimi youtuber Che sono più o meno questi Alcuni Hanno semplicemente L'effetto del fuoco O li devono implementare Devono cambiare Questo non lo so Comunque hanno un effetto Molto semplice Va bene ragazzi Io spero che questo video Di oggi Vi sia piaciuto In ogni caso Lasciate like Se vi è piaciuta la mod Lasciate ancora like Commentate magari Luke Fai questa mod Oppure commentate Luke Sei bruttissimo Sei brutto guaglione Sei bruttissimo Comunque Mettete mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Ci becchiamo Alla prossima video E Ciao ragazzi